Le truffe online nate in Spagna e in Portogallo sotto nome di pishing dal 2000 sono aumentate spaventosamente. Dei leoni da tastiera coperti dallo schermo cercano in tutti i modi di raggirare le persone con lo scopo di rubare informazioni personali o azioni di banche e le commerce. È poco più di un anno che la pandemia costringe tutti di rimanere chiusi in casa e questo ovviamente ha fatto sì che gli acquisti online si sono incrementati rigorosamente. I truffatori approfittano del momento e inviano degli sms. Il tuo pacco è in arrivo. Questo messaggio contiene un link che gli permetterà di hackerare dati contenuti nel cellulare e le carte di credito. L'unico modo per proteggersi è eliminare ed evitare l'sms e disattivare le notifiche di Google.